Presidente Contisciani, il BIM continua ad essere un sostegno importante per il territorio, ci sono stanziamenti per i comuni, ma da dieci anni il BIM ha dato oltre 4 milioni di euro a questo territorio piceno, no? 4 milioni e 577 per l'esattezza, sì come abbiamo visto anche in questi giorni la spend review non ha toccato assolutamente il nostro ente in quanto costo zero per lo Stato e per la regione e le province, mentre è un grosso vantaggio per le comunità locali. Da oltre 55 anni, quest'anno festeggeremo il 55esimo della sua istituzione, ha erogato più di 25 milioni di euro a sostegno del territorio per sostenere il progresso economico e sociale delle popolazioni. La settimana scorsa abbiamo contribuito con 635 mila euro per progetti che ci sono pervenuti dai comuni a sostegno loro per dargli in questo momento l'infa vitale, visto che gli ultimi tagli li hanno messi a terra in ginocchio. Ma non è finito perché già nel 2012 siamo arrivati a 735 mila euro a favore dei comuni e ancora ci saranno progetti da finanziare. Sì, come dicevo prima, 36 mila euro sono quelli che abbiamo deliberato la settimana scorsa, 735 sono quelli erogati dall'inizio dell'anno ad oggi, ma naturalmente i progetti in essere ci sono per altri 200 mila euro circa. Quelli che riguarderanno le scuole, gli studenti per le borse di studio che quest'anno abbiamo portato da 70 a 100, visto anche il momento difficile che stiamo vivendo. Bandi per le scuole elementari che quest'anno saranno sull'energia e in più un altro bando che riguarda la dislessia, come sempre noi facciamo insieme alle ASLE o insieme ai medici di base su problemi veramente concreti che riguardano i ragazzi. Più rimarrà confermata il discorso delle tesi di laurea e in più abbiamo riconfermato per l'anno 2013, 2012-2013, anche il servizio di telecardiologia che per le zone montane ha dato buon esito. Ma il BIM ha investito anche tantissimo in cultura, primo fra tutti il Ventidio Basso che fa una stagione grazie a un contributo costante del Consorzio, no? Sì, è da diversi anni che la stagione tetrale del Ventidio Basso ma anche quella della Concordia di San Benedetto ricevono da questo ente 50 mila euro per quanto riguarda il Ventidio Basso, che è stato confermato anche la settimana scorsa, come dicevo prima, e 20 mila euro per la stagione del Concordia a San Benedetto a Tronto. Ma sulla cultura in Praia noi stiamo investendo anche molto perché è compiceno d'autore che va a valorizzare gli scrittori del nostro territorio e altre manifestazioni tipo Danza Ascoli, ma altre manifestazioni che i comuni ci propongono, noi non ci tiriamo mai indietro. Il BIM ora affronta un passo importante, ha il suo compleanno, un compleanno molto diverso dal solito perché ci saranno diverse manifestazioni, ce ne può parlare? Senz'altro, la prima manifestazione è il 15 settembre presso la Pinacoteca Civica qui del Comune di Ascoli dove presenteremo il libro, la storia dei 55 anni di questo ente. La storia perché questo ente è sconosciuto fino a qualche anno fa all'opinione pubblica, ma anche alle istituzioni stesse, ritrovando tutti gli atti dai 55 anni a questa parte, e devo dire che ha contribuito veramente allo sviluppo di questo territorio perché qualsiasi cosa, dall'Università di Ascoli all'Oliva Tenera Ascolana, alla nuova sede della Camera di Commercio, ma a tantissime altre iniziative, c'è sempre stato il BIM dietro. E ci sono delle aziende che debbono ringraziare il BIM, per esempio la Sabelli, ci può raccontare la storia? Sì, abbiamo scoperto anche questo, che tantissimi anni fa il nonno di Sabelli aveva un piccolo casificio qui ad Ascoli e per motivi tecnici probabilmente doveva essere chiuso, il BIM era titolare di un casificio da Trisunco di Arquata del Tronto e quindi gli fu affittato per continuare l'attività e se oggi Sabelli è qua in Prato della Bianca BIM, così come abbiamo scoperto che in pratica la ditta Paoletti nel nuovo stabilimento che aveva costruito però non aveva il nucleo industriale, i soldi per far arrivare l'acquedotto, l'acqua da quella parte, il BIM ha contribuito a finanziare quell'opera che poi naturalmente gli è stata restituita, però ecco anche quell'azienda è qua. Un'altra cosa importante è che siamo riusciti quest'anno, visto nel 55esimo, a portare ad Ascoli il 4-5-6 ottobre una manifestazione che poi è l'assemblea nazionale di tutti i BIM italiani organizzati insieme alla federazione nazionale, dove porteremo oltre i presidenti dei 63 BIM nazionali ma tantissime autorità anche di grande spessore. Il BIM preleva, si può dire così, dalle captazioni, grazie all'Enel per il 99%, da quel che si sa, le risorse economiche. Quest'anno è vero che arriva a redistribuire sul territorio il 101%? Sì, quest'anno redistribuiamo al territorio il 101% di quello che incassiamo, ma le posso dire che in pratica in quei 4.577.000 euro che in pratica abbiamo ricevuto come sovraccanoni, abbiamo ridistribuito negli ultimi dieci anni 4.573.000 euro. Quindi come costo di gestione, se uno fa un calcolo matematico, è 4.000 euro in dieci anni. Questo dimostra l'efficienza di questo ente.